Gli interventi innovativi con tecnica mini-invasiva si fanno anche a Cosenza e a darne testimonianza con grande soddisfazione e meraviglia le figlie Valentina e Nadia di una paziente di circa 60 anni di ferroletto antico in provincia di Catanzaro, che anziché recarsi in centri rinomati del Nord Italia, contribuendo ad aumentare la migrazione sanitaria, si sono affidate all'equip del professor Nardo. I familiari, pronti a partire in centri specializzati del centro Nord, hanno appreso che all'ospedale annunziata di Cosenza erano già stati fatti altri tipi di interventi sul pancreas dal professor Bruno Nardo, come hanno avuto modo di verificare su internet, esperto di chirurgia dei tumori dell'apparato digerente, oltre che di trappianti di organi, proveniente dall'Università di Bologna. Alla loro mamma, a seguito di esami fatti per disturbi dovuti alla calcolosi della colicisti, è stato scoperto un tumore neuroendocrino del pancreas, che, raccontano, era attaccato alla milza, è vicinissimo al rene e doveva essere operato. Dopo aver preso informazioni, le figlie hanno riposto la massima fiducia nei chirurghi dell'annunziata e hanno avuto ragione. Infatti, pochi giorni fa, la mamma è stata sottoposta con successo ad un delicato intervento al pancreas, eseguito con tecnica totalmente laparoscopica, unico nel suo genere in Calabria, perché è stata salvata anche la milza e tolto solo il piccolo tumore, preservando il resto del pancreas. La paziente è tornata a casa dopo appena quattro giorni e attualmente sta bene, circondata dall'affetto dei propri cari, che non finiscono di lodare i medici e l'ospedale di Cosenza. Non è la prima volta che il professor Renardo e la sua equip, composta da giovani e validi chirurghi, si avvalgono della tecnologia laparoscopica avanzata, messa a disposizione dall'azienda ospedaliera diretta dal commissario straordinario, professoressa Isabella Mastrobuono. Si è trattato di un intervento laparoscopico molto delicato, durato una mattinata intera. I chirurghi sono riusciti, attraverso tagli di pochi centimetri, ad asportare il tumore del pancreas. In un momento difficile per la sanità calabrese abbiamo voluto raccontare una storia di buona sanità che fa ben sperare. Mia mamma è stata bene sin dal primo giorno, come se non fosse stata operata. Grazie ancora a tutti e che Dio vi benedica, sono le ultime parole delle figlie nella loro testimonianza.